Questa sera un ristorante a Novara tipico ma decisamente internazionale perché è frequentato da molti ospiti, è il ristorante Il Vecchio Pendolo dell'hotel Abusso La Novara. Cucina tipica della tradizione ma anche tanta innovazione, tanta tecnologia, tanto studio, una brigata giovanissima, tre cuochi che in tre non arrivano a 90 anni ma già con un background decisamente molto avanti. Matteo Ridoni, 24 anni, ormai prima guida del ristorante Il Vecchio Pendolo, molto sensibile e attento alle nuove tecniche di cucina e di cottura. Ma cosa hai preparato questa sera a bassa temperatura? Questa sera vi ho preparato una letta di vitello costa a bassa temperatura sotto vuoto con una salsa all'uva e moscato. Utilizzo questa tecnica perché secondo me è una tecnica innovativa però allo stesso tempo che racchiude tutti i sapori del pezzo di carne, i succhi e soprattutto la tenerezza. Queste nuove tecniche di cucina sono applicabili solo alle carni oppure avete diversi piatti che... No, ho inserito in questa carta di questo mese anche un pesce che è un pesico del Nilo, sempre cotto a bassa temperatura sotto vuoto con degli aromi e devo dire che il riscontro è molto positivo da parte dei clienti dell'albergo. Chiaramente questo albergo, la clientela è decisamente molto internazionale. quanti di loro si affidano alla tipicità o quanti invece preferiscono i piatti della cucina internazionale? Devo dire che è molto ampio il discorso, però devo dire che il riscontro è molto positivo anche dal punto di vista di una carta più ricercata, cercando sempre di introdurre sempre una nota piemontese all'interno comunque di una struttura locata a Novara.